Io ho sentito una parte ovviamente degli interventi precedenti di prospettiva, è chiaro che quando si parla di formazione professionale, di questo mi occupo di giovani, non possiamo non rimarcare un concetto che evidentemente è già emerso ma che è forte, che è quello in questo ambito del gap e delle competenze, un gap di competenze che è forte, che non è della regione Liguria, un gap nazionale, un gap addirittura a livello internazionale ma gli ultimi dati, leggevo ieri un rapporto di Ampal, dicono questi dati che quando si tratta di andare ad analizzare il mercato del lavoro si trova un mismatch molto forte tra quelle che sono le possibilità, le offerte che arrivano dal mondo del lavoro e invece le professionalità che in questo momento si stanno reperendo. In due anni questo mismatch a livello generale è passato dal 12 al 26%, vuol dire che su 26 posizioni su 100 non hanno copertura di un curriculum adeguato e se andiamo sulla parte tecnica, tecnologica, su quello di cui stiamo parlando addirittura si arriva al 37% e questi sono dati, sono numeri, poi li viviamo in realtà quotidianamente nella nostra esperienza, nei nostri incontri, nei saloni come orientamenti che facciamo proprio per dar modo ai giovani di incontrare le aziende, dove troviamo aziende, non voglio fare nomi ma è chiaro che li abbiamo ben chiari, che ci dicono noi abbiamo bisogno in questo momento di 35 ingegneri ma dall'università quest'anno ne sono usciti 20, lo dico ovviamente perché poi interverrà anche il prorettore in uno spirito costruttivo però ce le dobbiamo dire queste cose, si cercano i periti elettronici, si cercano i programmatori, le aziende non li stanno trovando, li cercano in Liguria e non li stanno trovando, abbiamo aziende che si sono già diciamo industriate e si sono create una propria academy, ovviamente sono tutte esperienze che stiamo inglobando in un sistema anche di sostegno pubblico ma lo hanno fatto soprattutto nel Levante Ligure, abbiamo aziende che hanno detto ci rimbocchiamo le mani che lo facciamo insieme ma dobbiamo partire per formare, addirittura chiedono e stanno chiedendo alle aziende di entrare nelle scuole, negli istituti tecnici già al quarto anno per entrare in contatto con i ragazzi, con gli studenti degli istituti tecnici al quarto anno per coltivarli e fare in modo, e credo che poi ci tornerà anche Paolo Liguori, ne parlavamo prima su questo tema, per fare in modo ed evitare che questi ragazzi una volta diplomati poi vadano via e non scelgano le aziende che in questo momento hanno bisogno. Vedo che Edoardo sta lasciando la sala, prima che lo faccia voglio sottolineare un concetto su cui tornerò dopo che è quello dell'orientamento, ovviamente la chiusura di questo discorso perché noi abbiamo avviato un progetto di orientamento molto forte di scuola digitale che è uno dei progetti più all'avanguardia d'Italia proprio per riuscire a diciamo ridurre questo gap ed è stato possibile tutto questo perché a livello di giunta ci siamo poi guardati un po' in faccia e negli occhi e Edoardo aveva destinato a suo tempo quando era assessore allo sviluppo economico una quota di FESR, quindi del fondo dello sviluppo economico per la scuola digitale. Avevamo una quota che serviva per portare la digitalizzazione sul territorio e la scelta è stata quella di partire dalla scuola. Credo che questo sia un dato rilevante, un dato importante perché se siamo qui oggi, siamo qui, Liguria Digitale ha fatto un'operazione importantissima nelle scuole, siamo riusciti ad andare a monitorare, a creare una community con tutte le scuole Liguri, con tantissimi progetti, centinaia di progetti, un monitoraggio preciso di tutti gli istituti, di tutti i progetti validi. Non solo, siamo riusciti a emanare un bando, lo abbiamo fatto recentemente, adesso sta andando a compimento, per arrivare a che cosa? A dotare il territorio di laboratori, di centri multimediali a disposizione innanzitutto degli studenti, ma siccome poi erano fondi dello sviluppo economico, saranno poi a disposizione anche della cittadinanza. Ne partiranno quattro, i primi tre saranno a Genova, nella città metropolitana Lavagna, a Spezia e Imperia, a settembre partirà anche Savona. Sono dei segnali, ovviamente per arrivare nelle scuole, per dare un segnale di necessità di competenza digitale ai giovani, ma che ovviamente si possono espandere, perché chiaramente Regione ha fatto e ha investito, si è a valsa del contributo di Ligure Digitale per essere presente sul territorio, ma questa formula può essere adottata e integrata dalle aziende, perché l'esigenza c'è, le scuole attive ci sono, sono mappate e quindi è chiaro che se su questo esempio di laboratori ci muoviamo tutti insieme, forse il gap di competenze di cui si parlava all'inizio, possiamo provare a ridurlo. Chiaramente non è un percorso veloce, chiaramente quando arriva un'azienda a dire che manca un ingegnere non glielo possiamo creare né in un anno né in due anni ed è un processo più lungo, però alcune competenze si possono accelerare e allora anche in questo caso Ligure Digitale con un accordo con l'Academy che abbiamo in mente in progetto e già è stata attuata, ha emanato corsi sostanzialmente di accelerazione delle competenze, toccando in questo caso l'accordo con Sisco, ma è un modello, un protocollo che può coinvolgere altre aziende, ne abbiamo anche qui a questa tavola rotonda. Siamo partiti da quattro istituti, sono partiti, l'obiettivo è di passare da 400 giovani a 4000 giovani che vengono attenzionati da questi corsi che accelerano competenze. È l'urgenza che abbiamo, l'abbiamo e la possiamo risolvere da diversi punti di vista. Io ho parlato ovviamente di formazione in senso lato, sono partita dalla scuola, quindi dall'urgenza di andare nelle scuole a fare orientamento quando si è alle scuole superiori, citavo i quarti anni, in realtà se vogliamo cambiare la cultura dobbiamo addirittura partire dall'elementare ed è quello che abbiamo fatto con un protocollo importante che parte dalla quinta elementare perché è un processo che dobbiamo e abbiamo la responsabilità di attivare adesso. Però poi la formazione interviene evidentemente a diversi livelli. Noi abbiamo emanato corsi di formazione su vari settori e in alcuni abbiamo avuto un'alta risposta di progetti in campo digitale, in altri forse meno e anche questa è un'analisi che ci può aiutare. Abbiamo avuto un bando sulla Blue Economy che ha avuto un alto successo di occupazione, era una notizia di questi giorni ma in questo caso pochi progetti legati al digitale. Mentre abbiamo avuto un bando over 24 che ha portato a tre progetti, solo tre progetti su diversi, tre figure, tecnico multimediale, tecnico audio video e tecnico informatico del software. Chiaramente sono i corsi che hanno avuto l'occupazione maggiore. Sto facendo degli esempi, non voglio andare troppo nel dettaglio, su formare al turismo che è un ultimo bando della formazione che abbiamo emanato, abbiamo avuto un aumento dei corsi legati al digitale tra cui due del Rina, lo dico avendo qui anche Ugo Salerno a questa tavola rotonda, tecnico del marketing turistico e della promozione del territorio e corsi importanti e anche uno legato alla cyber security per il turismo. Questo ultimo bando in termini cronologici ci dice che sta aumentando la progettualità in campo digitale. Però io credo che ancora molto ci sia da fare e ce lo dobbiamo dire, perché le risorse ci sono. Abbiamo emanato adesso un pacchetto giovani da 8 milioni di euro che prevede il digitale, la cyber security, questa parte tra i settori privilegiati che hanno la corsia preferenziale nella destinazione delle risorse. Però la progettualità non può arrivare da regione, deve arrivare dalle aziende in accordo con gli enti. Allora è questo il meccanismo che credo dobbiamo mettere sul tavolo e capire tutti insieme. Gli enti formativi ci sono ma hanno bisogno delle aziende per fare progetti di qualità che poi possano garantire già in accesso un'occupazione alta. Abbiamo un ITS qui a Genova che è quello delle tecnologie che fino a qualche anno fa era nel limbo, lo dico, lo sappiamo, abbiamo lavorato su questo. E l'ingresso di Confindustria in maniera pesante, del Digital Innovation Hub e quindi di ribalzo di Liguria Digitale che ha dato la sua sede qua, ha fatto crescere l'ITS, non solo lo ha salvato, lo ha sdoppiato. Questo ITS adesso fa due corsi, sono due corsi importanti ovviamente specializzati del software e ha avuto la premierità, una premierità l'altro giorno al Ministero dell'Istruzione come uno dei corsi migliori. Allora è chiaro che quando la formazione incontra l'azienda i risultati ci sono. Io credo che questo sia il modo per andare avanti e che questi sono un po' i temi che abbiamo, che abbiamo di cui parlare. Uno è chiaramente quello dell'orientamento dei ragazzi, due è quello dell'acceleratore delle competenze per capire come fare a rimediare un po' del tempo che sicuramente si è perso. Io mi fermo, è chiaro che dall'intervento avete capito la volontà, disponibilità di capire il sistema e di continuare a erogare delle risorse da questo punto di vista, di formazione, di alta formazione, ho citato un ITS e di accordo con l'università che poi ovviamente parlerà per quanto riguarda soprattutto i master. In questo caso sono 9 su 21 quelli che siamo riusciti a fare legati alla tecnologia, è chiaro che dovremo andare avanti da questo punto di vista, è chiaro che l'università ha io credo una responsabilità. Quello a un certo punto, ma lo dico, ripeto in spirito costruttivo, stiamo facendo tanti progetti insieme, di dire ai ragazzi che forse se ci sono 2000 iscritti a giurisprudenza e ce ne sono molto pochi a ingegneria, è un gap che è anche un gap di orientamento e questo a un certo punto è un coraggio che dobbiamo avere tutti insieme perché altrimenti il gap lo riduciamo meno.